E che ci fai anche tu su TikTok? Ci mancavi solo tu. Il primo video arriva proprio in questo momento. 25 giorni dalla campagna elettorale. È vero che la campagna elettorale porta tutti noi a voler trovare dei nuovi canali alternativi per dialogare e discutere. Per molti di voi io sono un esperto di First Reaction Shock, di Shish, linguaggi quasi più complessi del corsivo. Altri mi conoscono come ex presidente del Consiglio, più giovane della storia repubblicana, ma soprattutto come sindaco della città più bella del mondo, di Firenze. Altri magari non conoscono pagine che per me sono state fondamentali per la mia vita, essere stato arbitro di calcio o capoclan, non camorra, boy scout. Ma quello che è fondamentale è che io sono stato e sono soprattutto un politico, uno che crede nella politica. E se vi va, qui ci siamo.